Avvicinarsi ai pazienti grazie a servizi dedicati, aiutare il sistema sanitario nazionale rendendo le cure più sostenibili da un punto di vista economico e rilanciare la cultura del farmaco equivalente da non svilire con la dicitura generico. Sono questi tre contenuti fondamentali che rilanciano Sandots come primo attore nel settore dei farmaci equivalenti e biosimilari. È importante ricordare che equivalenti e biosimilari non è sinonimo, come erroneamente si pensa, di minore efficacia. Al contrario, possiamo ritenere che questi farmaci, potendo contare sull'esperienza di utilizzo della molecola in real life, possano essere usati con ampia garanzia di efficacia e sicurezza. Dottor Fedeli, oggi parliamo di farmaci equivalenti e biosimilari. Ci puoi spiegare di che cosa si tratta? Sia i farmaci biosimilari che i farmaci equivalenti sono farmaci cosiddetti off patent, cioè sono farmaci che vengono prodotti e messi in commercio dopo che l'originatore di riferimento ha perso la protezione brevettuale. Il farmaco equivalente è un farmaco che presenta caratteristiche chimico, fisico, farmacologico, quindi di comportamento del farmaco all'interno dell'organismo è esattamente sovrapponibili a quelli del farmaco di riferimento che veniva utilizzato nella sua protezione brevettuale. Il farmaco biosimilare è un farmaco di derivazione biologica, quindi farmaci equivalenti sono farmaci chimici, farmaci biologici sono i biosimilari e nell'ambito dei biosimilari il termine stesso intende il concetto del biosimilare, cioè il biosimilare è un farmaco biologico simile che ha un comportamento simile e sovrapponibile a quello del biologico originatore di riferimento. I due farmaci passando attraverso un processo che va a determinare il comportamento nell'organismo, quindi nel paziente esattamente sovrapponibile a quello del farmaco originatore di riferimento arrivano all'emissione in commercio al termine di un processo lungo di ricerca e sviluppo che conferma il loro comportamento in vivo sovrapponibile a quello del farmaco di riferimento e un lungo processo di ricerca e sviluppo che viene concordato e validato con gli enti regolatori. Questo perché? Perché a tutela della salute della popolazione trattata, a tutela del sistema sanitario stesso e a tutela anche dell'azienda che immette il farmaco in commercio, abbiamo degli elementi minimi di garanzia che il farmaco ha un comportamento esattamente sovrapponibile a quello del farmaco di riferimento. C'è una specificità per i biosimilari? Nell'ambito del farmaco biosimilare, questo si discosta leggermente dal farmaco equivalente perché essendo un farmaco di produzione biologica necessita di un'ulteriore validazione nella popolazione dei pazienti. Si hanno studi di conferma del comportamento del farmaco nei pazienti e questo consente di ottenere direttamente informazioni, informazioni di equiparazione nel comportamento clinico, quindi in termini sia di efficacia che di tollerabilità, nella popolazione che sarà trattata con quel farmaco. Quali sono le aree terapeutiche in cui siete impegnati? Noi siamo presenti con otto farmaci biosimilari in svariate aree terapeutiche, siamo presenti nell'endocrinologia e nell'endocrinologia pediatrica, siamo presenti in immunologia, siamo presenti in oncologia e nell'ambito anche, chiamiamolo così, del supportive care oncologico con tutti i farmaci biosimilari dei fattori di crescita della serie bianca e della serie rossa del sangue. Arriveremo nei prossimi mesi con altri biosimilari perché la ricerca e sviluppo continua in parallela e arriveremo nell'ambito della sclerosi multipla, arriveremo e completeremo l'offerta in ambito immunologico, saremo presenti anche nell'ambito della cosiddetta bone health, cioè della cura della salute dell'osso, sia in ambito oncologico nella prevenzione ai secondarismi ossei delle metastasi, sia fondamentalmente in ambito di prevenzione dell'osteoporosi. In che modo il ricorso biosimilare allarga la platea dei pazienti trattabili in maniera ottimale? Allora, noi osserviamo quello che succede in Italia. Due studi italiani, uno del 2019 e uno pubblicato l'anno scorso, confermano che sia nell'ambito immunologico, nell'artrite reumatoide, sia nell'ambito delle malattie infiammatorie croniche intestinali c'è una quota parte di pazienti che secondo linee guida cliniche correnti potrebbe essere trattato con farmaco biologico ma che rimane in terapia non biologica, magari con dosaggi alti, magari anche con impatti sulla qualità di vita del paziente non così ottimali. Ecco, questa quota di pazienti potrebbe passare al biologico, uno degli elementi che ritardava il passaggio al biologico era fondamentalmente legato a una questione di sostenibilità e di costo del farmaco. Diciamo che il farmaco biosimilare ad un costo inferiore rispetto al biologico di riferimento va a togliere questo tipo di ragione per cui veniva dilatato, dilazionato l'accesso al farmaco biologico e quindi il farmaco biologico biosimilare potrebbe rappresentare uno strumento per agevolare il trattamento. Le dico di più, se andiamo a prendere ad esempio il segmento della Dalimumab che è un farmaco ampiamente utilizzato nella gestione ad esempio dell'artrite reumatoide, l'introduzione dei biosimilari nel giro di due anni ha determinato una crescita del 9% dell'accesso a questo farmaco e questo ha sicuramente comportato a parità di costo una maggiore platea di pazienti che hanno potuto usufruire di questo tipo di farmaco. L'incontro è servito per aprire una discussione importante sul ruolo dell'industria e dei farmaci nel mantenimento del nostro sistema sanitario nazionale in senso universalistico. Dottor Forestiere, oggi presentiamo Sandos come realtà indipendente e autonoma. Qual è il suo commento in proposito? Sono contento di annunciare che da poche settimane siamo diventati come Sandos un'azienda indipendente, questo non cambia la nostra vision, vogliamo espandere ed essere pionieri nell'espansione dell'accesso alle cure per il paziente. A livello globale ci porremmo come leader di mercato sia nella parte dei biosimilari, sia nella parte degli antibiotici e sia nella parte degli equivalenti per quanto riguarda il settore oncologico, ma siamo anche leader globale a livello europeo e a livello italiano su questi settori. Questo ci dà grande responsabilità, raggiungiamo più di 500 milioni di pazienti nel mondo con i nostri prodotti, abbiamo un fatturato di 9.1 miliardi di dollari, se lo collochiamo nella realtà italiana questo si traduce in 13.3 milioni di pazienti raggiunti ogni anno, più di 70 milioni di confezioni distribuite e un impatto sociale inteso come improvement stimato da WIFOR, un rapporto del 2022 di circa 6.3 miliardi. Ci spiega l'entità del contributo di Sandos alla sostenibilità del sistema sanitario nazionale? In relazione al sistema sanitario nazionale possiamo dire che Sandos è anche un partner per quanto riguarda la sostenibilità, quindi i risparmi che noi generiamo con i nostri biosimilari, solo quelli di Sandos, sono stati stimati da un rapporto di Cuvia del 2022 in circa 600 milioni di euro. Questo non è solo un fattore di risparmio ma è un fattore che aiuta il governo e anche le istituzioni a reinvestire questo denaro in innovazione e in servizi per il paziente. Qual è la visione che voi avete come azienda in relazione al ruolo del farmacista? Il farmacista rappresenta per noi uno dei ruoli chiave del settore sanitario, è il punto di connessione tra il clinico e il paziente. Noi collaboriamo con i farmacisti in maniera costante e collaboriamo attraverso dei servizi che noi offriamo al farmacista sia di formazione da un lato ma anche servizi al paziente. Per quanto riguarda la formazione abbiamo creato S Plus che è uno dei nostri fiori all'occhiello, un programma che offre corsi di approfondimento sulle terapie principali e più gravose per il paziente, quindi l'oncologia, l'immunologia, la cardiologia e la terapia del dolore. Per quanto riguarda invece i servizi al paziente noi supportiamo la farmacia, l'home delivery che non fanno altro che aumentare l'efficienza del sistema, sgravare tutta la parte di supporto ospedaliero e di medicina di base e offrire al paziente un servizio sempre migliore. Può darci quindi una visione globale del futuro aziendale? Sando è un'azienda che continua a investire sia in capacità produttiva, quindi faccio l'esempio di un investimento di più di 750 milioni che da quest'anno verrà pianificato per i prossimi anni, di cui 150 ci tengo a dire sono dedicati al nostro sito di Kundle in Germania dove produciamo la penicillina. Noi serviamo più del 60% della domanda globale ed è l'unico stabilimento in Europa che produce in maniera verticale questo farmaco, dalla formulazione fino al packaging. Un altro fattore molto importante riguarda invece come noi intendiamo supportare tutta l'espansione di accesso di cui abbiamo parlato ai pazienti. Noi abbiamo 8 biosimilari in questo momento sul mercato ma contiamo di lanciare più di 25 nuove molecole nei prossimi 10 anni. Questo ci garantirà di mantenere e di consolidare anche il nostro ruolo di leader globale nel settore dei biosimilari e dei farmaci off patent. Il mio auspicio per il futuro nel panorama anche italiano è che noi insieme anche a tutti gli altri player del farmaceutico e alle istituzioni sia nazionali che regionali possiamo lavorare insieme per creare un piano strategico nei prossimi 5 anni che pone la sanità al centro e veda la sanità come un valore e non solo come un costo e mantenga il primato italiano appunto nel servizio che noi offriamo al cittadino come appunto servizio universale per tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!